Eravate già a casa, ma alla luce della squalifica di De Benedetti e Carlotta siete stati ripescati. Siete tornati in villa a gara iniziata. Rientrete in gara col punteggio della coppia ultima in classifica. Se accettate, strappate il comunicato e bentornate. Io so già la risposta. Anch'io? Vai. Siamo pronti a rientrare, più forti di prima, più forti che mai. Spacchiamo tutto, dai. Buonasera, eccoci appunto Radio Mazzoni, la radio speciale di Puppa, Secchioni e Viceversa. Ovviamente prima di iniziare questo collegamento, un momento di osservazione in onore dei due nostri compagni che ci hanno abbandonato. Buonasera. Cioè... Benà, io rivisti da tu mannaggia